Abbiamo allestito una mini expo presentando alcuni prodotti che sono veramente completamente made in Italy. Siamo aperti al mercato globale come difensori del made in Italy completo in tutte le sue fasi. Questi prototipi non sono ancora stati presentati da nessuna parte la prima volta che si vedono. Ho portato delle posate con degli inserti in smalto a fuoco. Io produco abbigliamento artigianale fatto in Toscana. Usiamo un materiale prettamente toscano e quindi dai tessuti, tutti i materiali. Cerchiamo di collaborare con quelle piccole aziende ancora rimaste in Toscana. Il progetto Light Your Night ovvero dei led inseriti all'interno del legno che è una cosa innovativa, unica in tutto il mondo perché praticamente fino adesso il legno non si poteva illuminare. Il nostro prodotto è una produzione made in Italy e lavoriamo con un laboratorio presente a Roma dove appunto scegliamo i tessuti, da tessuti poi organizziamo e realizziamo le collezioni. Eccellenza Agroalimentare Italiane è uno showroom che si trova a Sutri di prodotti agroalimentari di eccellenza, prodotti che provengono dalle diverse regioni d'Italia e che hanno il comune denominatore dell'eccellenza.